Bella a tutti ragazzi qui sempre Lele e Michi e oggi siamo qui con un nuovo video su GTA 5 e faremo un po' di cazzeggio con la nostra T20 la nostra T20 rosso lava, tanta roba, veramente un colore bellissimo, è una macchina bellissima è troppo veloce qui come sempre c'è Michi Bella a tutti e oggi adesso andremo a comprare un po' di bombe per fare bordello e poi vediamo che cazzo riusciamo a fare tutto estremamente a caso tutte le cose più strane, estremamente a caso eccoci fuori dall'armunicio, per sbaglio siamo entrati, cazzo finiamo cazzo per tatuaggi ecco, abbiamo comprato anche delle bombe a gas perché, che cazzo vuoi? abbiamo comprato anche delle bombe a gas perché, delle granite a gas perché, vorremmo fare una specie rapina cioè è troppo bello per soffocare tutti quelli che stavano dentro oh, oddio vedi se è morto quello dentro cioè, è troppo fina oh, la pura raga, la pura qui le nostre bombe adesive sono pronte? si e siamo a fare bordello, gente che cazzo hai fatto? wow oddio, che figa sta macchina c'è così? mamma mia, che tocco di classe oh, c'è proprio alla ghost attenzione perché tra poco esploderemo raga alla ghost rider, proprio no, non è esplosa non è esplosa la polizia si è fuori dalla ruota adesso ci vediamo, che cazzo eccoci usciti appena dall'ospedale siamo saltati in aria e adesso riandremo a prendere e la la di 20 sempre rosso lava e senza le fiamme dietro, però oh sorpasso incredibile facciamo l'impennata con la ruta davanti mamma mia mamma mia cioè rendetevi conto noi stiamo facendo l'impennata con mister Michael che l'abbiamo scoperto un giorno che non lo so se stavo girando un video, non mi ricordo, mi sa che stavo girando un video però non mi ricordo esattamente e praticamente abbiamo semplicito a fare le impennate in avanti e è veramente una cosa epica. Dopo non lo so se riuscirò alla fine di questo video a portarvi una cosa davvero epica, molto simile a questa. Mi ricordo che più o meno nel periodo di Natale ci arriverà WWE 16 e FIFA 16 che io già solo che mi chissero dovrebbe avere a Natale insieme a WWE 2016. Quindi scriveteci sotto nei commenti cosa volete vedere, che tipo di genere di video che volete vedere, se WWE, FIFA, GTA o anche Assassin's Creed 2 se non mi sbaglio. Forse ci dovremmo comprare Assassin's Creed Syndicate perché l'abbiamo visto da, l'ho visto a casa di Enric Inno Z, ricordiamo che è un mio grande amico quindi iscrivetevi. Si chiama Enric Inno Z, fa video anche lui, divertenti e molto utili. Iscrivetevi anche al canale di CrazyCrasher che fa video più che altro su Minecraft, sulle mod e cose varie che sono veramente fighe, tipo le armi su Minecraft, è troppo bello. Quindi se volete questi video iscrivetevi, iscrivetevi al canale, innanzitutto, lasciate un like e fatecelo sapere nei commenti. Adesso andiamo a continuare il nostro cazzeggio, sempre con la pura che sta, sempre con la polizia che sta a comprare il cazzo. E adesso cerchiamo di scamparla. Attenzione raga, attenzione, attenzione! Che schifo! Che slide, che slide! Adesso, siccome lo sappiamo che cazzo fare, perché questo video ci è venuto così a cazzo di farlo, noi vorremmo andare a Forzancudo con questa macchina, che diciamo è veloce. Volevamo una tipa in tessuto che non l'abbiamo trovata, quindi... Non lo so, a Forzancudo non faremo cose tipo bug o... Diciamo... O cose varie. Vare aerei, cose, cose... Wow, avete visto anche voi? Quello è volato dal finestrino. E quindi... Andremo a Forzancudo e faremo uscire i pazzi dei guardi correndo da... Che cazzo ste facce? Correndo da tutte le parti facendole impazzire. Spero che non mi arrivi perché l'armato, se no, sono cazzi nostri. Quindi noi proviamo a fare questa cazzata perché non sappiamo cosa fare. Non sappiamo come cazzo abbiamo fatto, solo che mentre stavamo andando nella strada per Forzancudo si è bucato tipo il serbatoio e quindi amici, è venuta la fantastica idea che facciamo un pezzo di strada e adesso si dovrebbe infiammare una cosa di fuoco tipo di due chilometri. Mamma mia raga! Oddio! Oh no! Oh no raga! Bostati! Eh, non è le vacanze! Questa è la cosa che è successa prima. Wow! Oh signore! Oh signore! Noi, nel frattempo che... Wow! Cerchiamo un'altra macchina. Dammi le lampadati! Eh, proviamo ad andare a Forzancudo con questa macchina di cazzo. Poi non lo so se riprovare a prendere un'altra macchina e andare senza esplodere. Eccoci arrivati a Forzancudo e cerchiamo di fare un'entrata insolita, proprio... Allora... Allora... Giusto? Figa! Vanno stare a BGT? Wow! Wow! Ecco, siamo dentro! Siamo dentro? Non ci cercano! Iniziamo... Guarda, questa... Pazzine, guardie! Oh cazzo! Ecco! Hanno iniziato... Cazzo, il carro armato! Quattro stelle! Già, quattro stelle! Il cazzo armato! Carro armato! Corre! 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 Abbiamo Houston! Abbiamo una ruota... Ingappata! Attenzione! Adesso faremo... Una cosa molto epica... Perché... Andremo a prendere... Questo, questo qui... E BOOM! Wow! Non so se avete notato... Ma ci sono moltissime guardie! Oddio! Wow! C'è... Gli ho tentato una ruota, raga! Eh, mi sembra d'aspetto a casa... Oddio! Wow! Cioè, questi sono di sfondamento... Oh, raga, vuol dire che... Ok! Si è bagato! Si è bagata la mia auto! Secondo me è saldi all'aria! Wow! E' cosa migliore da fare! E' morire! Ok! Che cazzo facciamo adesso? Eh, ragazzi, siccome siamo a corto di idee, almeno per adesso, direi di concludere il video qui. Ehm... Quindi... Ci vediamo al prossimo video! Ehm... Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, commentate e mettere mi piace e... E... Ricordatevi che... Ehm... Sicuramente farremo... Lo diremo sempre in qualche altro video di... Ehm... Non dimenticarvi che... Più o meno verso dicembre dovrebbe uscire... Ehm... Qualche video su... Da più di... Ehm... Ah, ah, raga, comunque il video non è finito qui perché... Ehm... Vi avevo detto che vi dovevo mostrare questa cosa e ve la mostrerò. Guardate che figata! Adesso non sto andando molto veloce, però... Tra un poco inizierò ad andare un po' più veloce. Guardate! Io non sto pedalando, raga! Ehm... Ehm... Ok! Quindi questo possiamo dire che sarebbe un bug. Eh, eh... Più o meno un bug. Ehm... Quindi... Adesso ho qui la macchina di Timmy Turner. Quindi... Questo video... Si conclude qui. Si conclude qui. E tra qualche giorno più o meno... Uscirà un video. Diciamo sempre cazzeggio. Cazzeggio. Eh... Ehm... Ma... In... Un altro luogo. Cioè, quel cazzeggio, diciamo, che sarebbe un po' già programmato. Eh... Quindi... Credo che andriamo all'aeroporto, però non voglio dirvi altro. Quindi vedete il nostro prossimo video. E... Alla prossima, gente! Ehm... 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 Ehm...